Uno dei tre indagati del tentato omicidio di Capodanno è comparso questa mattina davanti al GIP Paolo Cassano per la convalida degli arresti. Il 33enne è stato arrestato a Capodanno quando, nel corso della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di droga. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha respinto le accuse e chiarito la sua posizione in merito all'accusa, mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del GIP inerenti al ferimento di Roberto Bembo, il ventenne che lotta tra la vita e la morta all'ospedale Moscati. In tanti hanno mostrato solidarietà e vicinanza con un viavai davanti all'ospedale. Anche il sindaco di Mercogliano è stato sempre accanto alla famiglia e ha lanciato un appello agli amici di Roberto presenti quella sera. Bisogna collaborare con gli organi inquirenti affinché si possa risalire all'accaduto. È bellissimo vedere questa comunità raccolta intorno alle porte del pronto soccorso pregando per Roberto ed è quello che io invito a fare, come stiamo facendo un po' tutti perché Roberto è davvero un bravissimo ragazzo. Mercogliano non è questo. Mercogliano è una città di pace, una città dove per piccoli episodi, poi passa la cronaca nazionale, però sono sempre episodi sporadici, non c'è criminalità a Mercogliano.